In questo momento noi stiamo trattando un paziente che è effettivamente soggetto e affetto da H1N1 e trattiamo come se lo fosse un altro paziente che non è H1N1 in terapia. Fa paura il virus H1N1, la morte nei giorni scorsi alla mezza terme di una donna di 62 anni proprio a causa di questo e la diffusione della notizia di altri casi sospetti ha fatto scattare l'allarme. Un'allarme spiega l'infettivologa Giuseppina Berardelli del tutto ingiustificato e che bene fare rientrare. Se si creasse una psicosi da H1N1 a rimetterci sarebbero i pazienti stessi dell'ospedale costretti a dover avere a che fare con un pronto soccorso invaso anche da chi ha una banale influenza. Ipotesi aggravata anche dal fatto che il ceppo influenzale quest'anno si è dimostrato ancora più virulento prestandosi a creare nei più suggestionabili paure non giustificate. Non è il caso di allarmarci, insomma la signora era una paziente già con delle problematiche sue e che poi purtroppo non ce l'ha fatta ma è un caso che rientra nella media. Il virus colpisce coloro che hanno il fisico già debilitato da altre patologie. Ci sono insomma le classiche categorie a rischio. Sono i soggetti che hanno delle patologie di base gravi, malattie che comunque deprimono il sistema immunitario. L'invito è quello a vaccinarsi ma l'Asp ha comunque predisposto un protocollo di intervento. Sarebbe opportuno all'inizio della stagione vaccinale sottoporsi alla vaccinazione che tendenzialmente noi come azienda sanitaria provinciale offriamo a tutta la popolazione a rischio. Tiziano Abagnato per la C News 24.